Lo sapevate che almeno il 40% del consumo energetico è dovuto agli impianti di riscaldamento e raffreddamento? La corretta gestione e controllo degli impianti di casa è perciò un dovere di tutti! Ridurre i consumi può farci risparmiare denaro e inquinare meno l'aria che respiriamo. Ricordatevi di tenere sotto controllo gli impianti termici. La manutenzione alle caldaie è indispensabile. Grazie a tutti!